E cos'è questa storia che un sogno non è? Confusione nel cuore, lontano l'amore, ma io lotterò. Lui mi illumina gli occhi, se sorride mi dà, sensazioni di fuoco, passioni profonde, una forte realtà. Ma se cerco calore, devo andare da qui, sa saziarmi di abbracci, di dolci carezze e regali per me. Sono scorti che credono e si cercano sì, c'è bisogno d'amore, parole sicure, solo verità. Ma intensamente, penso alla vita che mi dà queste strade per questo viaggio mio. E pensamente a te, io chiederò il destino di darmi aiuto per fare un cuore di noi. Se mi sfiora una mano, sarà un brivido che partirà fino a prendere quello che vuole e portarselo via. Ma che cosa faccio quando hai voglia di dare trasparenti emozioni, anche piccole cose che il cielo aprirò. Ma intensamente, penso alla vita che mi dà una mano a scegliere per me. E intensamente, io chiederò il destino, le carte giusti per fare un cuore di noi. E intensamente, penso alla vita che mi dà queste strade per questo viaggio mio. E intensamente, penso alla vita che mi dà queste strade per me.